Pronti? Buonasera a tutti. Prima di tutto un saluto anche da mia moglie che doveva essere il titolare della serata, quella che doveva intervenire per moderare ma realmente ha grosse difficoltà di movimento quindi non è possibile venire, non ha potuto venire. Io devo presentare i relatori di oggi che sono due personalità di una certa portata. Il primo è Paolo Ercolani che è un insegnante di filosofia e teorie tecniche dei nuovi media dell'Università di Urbina e collabora per l'inserto alla lettura del Corriere della Sera e per il rasoio di Ocam di Micromega ed è redattore della rivista Critica Liberale. I suoi libri hanno spesso suscitato un dibattito acceso. Oggi con noi tratterà del muro e della realtà virtuale, intelligenza artificiale e ottusità umana ai termini di Internet. E questo è il primo relatore. Seguirà Fabio Fornasari, architetto museologo, curiosando su Internet, ormai sapete che Internet è un po' la fonte di tantissime informazioni, mi è sembrato interessante caratterizzare il nostro relatore come costruttore di dispositivi che hanno una dimensione di relazioni, che convolgono il pubblico all'interno di dinamiche di interazione cognitiva e sensoriale, per mostrare e raccontare storie di valore utilizzando progetti ambienti di apprendimento e installazioni museografiche, responsabile scientifico del Museo Tolomeo, che è un ambiente tra installazione intermediale e interattiva e arte ambientale, dove raccontare in forma emozionale la storia dell'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza, attraverso il patrimonio degli oggetti usati nel corso degli anni. Non è ancora arrivato, quindi è già arrivato, ok? Buonasera. Quindi passo la parola a Fabio Fornasari. Scusi, Paola. Posso rimanere? Ho parlato con la mascherina, vi lo togliere? Intanto buon pomeriggio a tutti, grazie, grazie di essere qui, grazie al dottor Curti di avermi invitato. Come dicevamo prima, non sappiamo se qualcuno vuole fare degli scongiuri, li può fare, perché io con queste luci da qui non vedo nulla di voi, ma insomma non sappiamo se sarà l'ultimo incontro in presenza in questo senso, volevo dire, perché probabilmente la situazione sta evolvendo in maniera abbastanza preoccupante. A volte i muri non sono soltanto muri visibili, ma come sanno bene psichiatri, psicologi e psicanalisti, i muri a volte, anzi i muri peggiori a volte sono proprio quelli invisibili, diciamo così, e quindi io vi intratterrò con quello che penso essere un muro invisibile. Non sono neanche sicuro che sia meno pericoloso del muro invisibile dato dal Covid-19, però insomma siamo qui e quindi ci proviamo. Io partirei da raccontarvi un episodio che mi ha molto colpito, con cui vorrei partire, poi con cui concluderò con un'evoluzione di questo episodio. Insegno per l'Università di Urbino, come è stato detto, con l'Università di Urbino io ho portato in giro per l'Italia un progetto per le scuole, in giro per le scuole d'Italia. Lo abbiamo fatto soprattutto nella regione Piemonte, nella regione Marche, ma anche in vari poli scolastici sparsi per l'Italia. Questo progetto aveva a che vedere con il rapporto, soprattutto fra le giovani e giovanissime generazioni, e le nuove tecnologie. E io, avendo a che fare con studenti, ho attuato con loro un metodo volutamente provocatorio e gliel'ho buttata più o meno in questo modo che vi racconto a voi. Insomma io ho detto, guardate ragazzi, c'è una cosa di cui non riesco a capacitarmi. Non so quanti di voi le conoscono, ma ormai dovremmo essere più o meno tutti avvezzi a queste cose. Io non riesco a farmi una ragione delle storie su Instagram. Soprattutto quelle storie, quando io apro il programma, ovviamente io sono su tutti i social network per un fatto di volgare pubblicità, diciamo, delle cose che faccio, e quando apro però mi capita di aprire soprattutto Instagram, vedo queste storie, e la cosa che mi atterrisce di più a volte è che all'improvviso in questa storia compare quella che io chiamo la famigerata tazza di caffè o di tè. Cioè c'è qualcuno che fotografa la propria tazza di tè, magari poggiata sul tavolo, fumante, con dei fiorellini o con dei commenti, dei tag, come si dice oggi, anche con una colonna sonora, questo peraltro mi provoca una certa invidia perché io non sono capace ancora a mettere la musica, a dotare le mie storie su Instagram della musica, e tutte le volte che io vedo questa tazza di tè fumante in cui una persona indistintamente sta comunicando alla rete fondamentalmente cosa? Che sta bevendo il tè con qualcuno. E io tutte le volte non riesco a fare a meno di pensare che, insomma, per carità, la notizia ha una sua importanza, però, e allora dico a questi ragazzi delle scuole, ma insomma, e mi costa dirla questa frase, ai miei tempi, che è dolorosissima come frase, comunque, ai miei tempi, se io, mi immagino, mi fossi svegliato una mattina presto e avessi chiamato il mio migliore amico, compagno di scuola, gli avessi detto guarda Pierluigi, io ti ho chiamato, sì è vero che sono le sette e mezza del mattino, ti ho chiamato perché ti vorrei far sapere a cosa sto pensando. Ora, non so a Livorno, io vengo da Roma, c'è una tipica espressione a Roma che si usa per, forse anche in Toscana, per, non so come dirla in maniera adulcorata, per manifestare un certo disinteresse rispetto alla notizia che io sto dando a quella persona. Preferirei evitare di dirlo anche perché siamo registrati, quindi non sarebbe carino che io, insomma, trascendessi nel turpiloquio in questo modo, però, insomma, ve la siete potuta immaginare tutti. Beh, insomma, questi ragazzi di scuola, guardate, ne ho visti tanti, eh, abbiamo fatto il conto con l'Università di Urbino, abbiamo visto che, insomma, ho parlato con più di duemila ragazze in tutta Italia. Vi posso assicurare che quando io chiedevo a loro, ma perché lo fate? Perché queste storie su Instagram? Perché queste, ovviamente non solo le storie su Instagram, tutto quello che gira intorno, e non mi sapeva rispondere nessuno, o quantomeno non mi voleva rispondere nessuno, decideva di non rispondermi nessuno. Alle altre domande rispondevano tutti, più o meno, c'era un grande dibattito, spesso siamo rimasti più del tempo, però a quella cosa lì non mi rispondeva nessuno. Solo una volta, mi pare fossi ad Alessandria, si alzò un ragazzo, che poi i suoi docenti mi dissero che stranamente quello era il ragazzo più timido della classe, e quello che non interviene mai. Alzò la mano e mi disse, guardi, lei ha ragione, io sono fra quelli che partecipa a queste storie su Instagram, a queste cose che facciamo, non so perché lo faccio, francamente non so perché lo faccio, so che lo faccio, so che se la sera non l'ho fatto, mi sembra quasi di non essere esistito. Ecco, quella frase mi ha agghiacciato, io lì per Dio ho provato a dire agli altri, insomma, a guardare gli altri, gli altri suoi compagni, e trovare qualcuno che lo smentisse, qualcuno che desse un'altra versione, e non l'ho trovato. Ora, non dico che tutti gli altri fossero d'accordo con la sua versione. Fatto sta che la spiegazione che lui mi ha dato del perché non poteva fare a meno di partecipare a quel, come dire, a quel rito collettivo, perché ormai è questo, non poteva farne a meno perché altrimenti la sera gli sarebbe sembrato di non essere esistito, è stata una cosa che mi ha particolarmente agghiacciato, e da lì ho cominciato a condurre tutta una serie di studi che poi hanno portato a vari articoli scientifici, a un libro, e mi sono informato, mi sono informato su quello che comporta la realtà virtuale, perché la realtà virtuale è particolare, non è né la realtà reale, non è neanche una realtà inventata, è una via di mezzo. Il punto è, questa realtà virtuale è un momento di comunicazione fra la realtà reale e quella inventata, o è un muro, o è un ostacolo per l'essere umano. Secondo me è vera questa seconda cosa. Perché? Beh, perché per esempio mi sono andato a rivedere degli studi di condotti, tra gli altri, da Howard Garner, che è uno dei più importanti pedagogisti, anche psicologi, al mondo, l'autore, per chi fosse interessato, il teorico delle intelligenze multiple, insomma. Lui ha scritto recentemente un libro, Generazione Up, dove ci spiega che, questo ce lo spiegava già Eric Erickson, psicologo degli anni 60, 70, del Novecento, parlava delle crisi, dei momenti di crisi che vivono le giovanissime generazioni. Quando una persona smette di essere un bambino, un adolescente, comincia a diventare un adulto, vive dei momenti di crisi. Il primo momento di crisi è quello in cui il bambino si rende conto di non essere più soltanto lui il centro del mondo, ma esistono degli altri io, delle altre persone. È un momento fondamentale, non c'è neanche bisogno di stare a spiegare il perché, probabilmente molti di voi lo sapranno anche meglio di me, è un momento fondamentale però, diceva Erickson, quel momento, quello in cui la persona, l'adolescente, comincia a fare i conti con la propria identità personale, è un momento che avviene con determinate caratteristiche. La prima caratteristica è quella del lavoro di introspezione, cioè la persona deve cominciare a guardarsi dentro, a operare quello che Platone chiamava il dialogo dell'anima con se stessa. mi guardo dentro, comincio a chiedermi chi sono, cosa voglio, quali sono le mie le mie velleità, quali sono le mie inclinazioni, quali sono le mie idiosincrasie, quali sono i miei pregi, quali sono i miei difetti, quali sono i miei limiti. È un momento fondamentale della crescita di una persona, è lì che la persona forma la propria identità. Ecco, oggi la rete mette soprattutto i giovanissimi, ma ormai non più soltanto loro, di fronte a un problema da questo punto di vista. Gardner parla di identità preconfezionate, cioè oggi le giovanissime generazioni, e non solo loro, lo sottolineerò tutte le volte in questo incontro, non formano più la propria identità attraverso il lavoro di introspezione, ma viene chiesto loro di aderire a un'identità preconfezionata. Ora, che vuol dire preconfezionata? È il termine che usa Gardner. Cos'è che si confeziona? Si confeziona un prodotto in vendita. È così sbagliata la metafora? Io non credo perché un prodotto in vendita prevede almeno due cose. Una vetrina, e la vetrina c'è, perché i social network sono a tutti gli effetti una vetrina. e comporta anche una moneta contante con cui noi acquistiamo il prodotto, ma c'è anche quella, perché sono i like, sono i follower, sono le persone che commentano i contenuti che tu posti sui social network, o commentano le tue fotografie, o condividono i post che tu hai condiviso. Per noi potrà sembrare una cosa di una scarsa importanza, ma gli studi recenti ci dicono che oggi la net generation, o app generation, o nativi digitali, chiamiamoli come vogliamo, misurano molto del proprio valore in questi termini puramente quantitativi, quanti follower hai, quanti like ottengono i tuoi post, quanti like ottengono le tue fotografie. Gardner dice, cosa viene richiesto a un ragazzo, o una ragazza evidentemente, che oggi voglia presentare agli altri la propria attività. E gli viene chiesto una bella fotografia, possibilmente anche ritoccata. Ripeto, non è solo una cosa dei ragazzi, chi avrà più o meno la mia età, avrete vissuto tutti l'esperienza terribile di vedere sui social network persone il cui nome e cognome corrispondevano a dei nostri amici cari, ma guardandoli in foto non le riconosciamo, perché si sono trasformati attraverso dei filtri, degli accorgimenti, chiamiamoli così. E vabbè, comunque, a parte questa considerazione, cosa gli viene chiesto? Gli viene chiesto una bella fotografia, magari anche ritoccata. Gli viene chiesto di presentare un sé positivo, vincente, quali serie televisive ti piacciono, quali film, quali libri hai letto, adesso è un po' più raro oggi, ma insomma anche questo. Ma soprattutto viene chiesto loro di essere vincenti, di essere, insomma, tu devi mirare ad avere più like possibile. Non c'è altra. Ed è evidente che, per esempio, se io fossi una ragazza, è evidente che una mia fotografia in bichini, otterrà molti più like di una mia, o se fossi un ragazzo, una barzelletta, o una cosa stupida che posso dire, che però raggiunge il consenso di molti, otterrò molti più like che non se scrivessi una cosa profonda, seria, intelligente, o che magari è un motivo di sofferenza della mia esistenza. Ed eccolo lì che, allora, noi vediamo come i ragazzi si trovano fin da oggi a percepire se stessi come grandi merci di un gioco commerciale. Sono in vendita, sanno di essere in vendita, sanno di essere sotto tensione. Ed è una tensione continua, ed è una tensione motivata, argomentata dagli studi che ci dicono che oggi è aumentato il tasso di ipertensione, di ansia, di agitazione, di senso di inadeguatezza tra questi ragazzi. Perché sono costantemente in vetrina, costantemente sotto il giudizio degli altri. E questo naturalmente in adolescenti, non solo in adolescenti, ma soprattutto negli adolescenti, provoca, provoca un, un senso di disagio esistenziale profondo. E non è soltanto, non è soltanto il discorso dell'identità. Noi dobbiamo fare i conti anche con un vero e proprio muro cognitivo. Che cosa vuol dire muro cognitivo? Vuol dire che, questo è un grande insegnamento che ci dette Marshall McLuhan, il primo studioso sistematico dei mezzi di comunicazione di massa. Marshall McLuhan spiegò che la posizione dell'idiota tecnologico, come lo chiamava lui, è la posizione di chi pensa che si possa dare un giudizio sui mezzi di comunicazione di cui noi facciamo uso in base a come li si usa. Se io uso la televisione, McLuhan scriveva ai tempi della televisione, ovviamente, se io uso la televisione per guardare dei film impegnati, per guardare dei documentari storici o non solo storici, io sto facendo un buon uso di quel mezzo e quindi quel mezzo ha un giudizio positivo. Se io lo uso per guardare il grande fratello, ai tempi di McLuhan non c'era, oggi vediamo tutti quello che c'è, ne faccio un uso negativo e quindi il giudizio è negativo. Ecco, McLuhan ci insegnò già negli anni 60 del 900 che questa è la posizione dell'idiota tecnologico, cioè di colui che non sa che a prescindere dall'uso che noi facciamo di un mezzo tecnico e tecnologico, quel mezzo tecnico e tecnologico è destinato a produrre in noi dei feedback, cioè degli effetti di ritorno importantissimi. Lui faceva l'esempio di un oggetto banale, il martello, diceva prendete la mano umana, quant'è ricca la mano umana? Quante cose si possono fare con una mano? Si può accarezzare? Si può comunicare? Si può disegnare? Si può allacciare le scarpe? Si può costruire qualcosa? Si può dipingere? Si può suonare uno strumento musicale? Basta un oggetto banale come un martello, se questa mia mano prende in mano il martello, a quel punto quella mano vive dei feedback, cioè degli effetti di ritorno. Con in mano quel martello la mia mano può fare soltanto una cosa, martellare. Lo posso dare in testa a qualcuno ma è sconsigliabile dal punto di vista giuridico. O posso martellare un chiodo. Fatto sta che la mia mano che prima di prendere in mano quel mezzo che è il martello era uno strumento ricchissimo diventa uno strumento povero, uno strumento che può fare solo una cosa, martellare. Ecco, noi da questo insegnamento di McLuhan dobbiamo tradurlo verso l'oggi. Oggi non abbiamo più a che fare con martelli. Oggi noi abbiamo a che fare con dei mezzi di comunicazione, questi qui, con degli strumenti che richiedono la partecipazione di tutta la nostra personalità. Non è soltanto un fatto di identità e di formazione dell'identità. È anche un fatto per esempio cognitivo. Gli studi ci dicono che oggi i nativi digitali non riescono a prestare attenzione a un testo scritto che sia più lungo di dieci righe. Altrimenti detto viene chiamato analfabetismo funzionale. Analfabetismo funzionale, credo lo sappiate tutti, lo riassumo per comodità, è quel meccanismo con cui si è definita oggi il fatto che una persona sa leggere perché conosce le lettere dell'alfabeto, conosce la sintassi, sa leggere un testo. Ma dopo aver letto quel testo, di quel testo a quella persona non rimane assolutamente nulla, non sa ripetere il messaggio, il fulcro contenuto in quel testo scritto. Non riesce a rimanere e non lo rielabora, non lo rielabora soggettivamente, non è in grado di viverlo con un pensiero critico, o lo impara a memoria o non lo impara per niente, fuori da queste possibilità oggi c'è molto poco. Gli stessi studi ci dicono che oggi un esponente dei nativi digitali non riesce a prestare attenzione per esempio alle parole di un adulto, di un insegnante anche, per più di sei o sette minuti. Non è un caso, sei o sette minuti è, per chi, chiunque studia comunicazione sa queste cose, è la lunghezza media di un video su YouTube. Se tu vuoi avere successo, ti dice un esperto di marketing comunicativo, il tuo video non deve essere più lungo di sei o sette minuti perché altrimenti ormai oggi le persone staccano l'interesse, al sesto minuto cominciano, gli scende quasi una tendina nera davanti agli occhi. Le più importanti scoperte recentissime della neurologia ci dicono che il cervello umano è plastico ma non è elastico. Cioè è capace di subire delle trasformazioni, delle mutazioni, soprattutto in età piccola e piccolissima e quindi è plastico ma non torna esattamente come fanno elastico, noi lo allunghiamo poi ritorna nella posizione originaria. Il cervello umano non è elastico, il cervello umano si lascia plasmare ma poi non ritorna alla dotazione originaria. noi oggi stiamo e ve lo posso garantire da insegnante stiamo crescendo e non per colpa loro stiamo crescendo una generazione di adolescenti che non riescono più a leggere un libro per intero e neanche per metà e neanche un terzo e che se anche quando avranno 30 anni si dovessero incuriosire a quell'oggetto misterioso chiamato libro ammesso che ancora esisterà e vorranno leggerlo non ci riusciranno perché il loro cervello si sarà plasmato al punto da non avere più le capacità per riuscire a prendere in mano un libro e leggere e guardate che vi posso assicurare che è così oggi se voi andate nelle scuole c'è una differenza fra i testi scolastici di quando studiavamo noi io dico noi ci saranno persone più giovani persone meno giovani ma insomma per capirsi quando andavamo a scuola noi c'erano dei manuali dei testi dei libri le caratteristiche di questi libri erano più o meno semplici c'era una pagina riempita da caratteri grafici se oggi voi proponete a un ragazzo medio della net generation un libro come quello nostro cioè con la pagina piena di righe quel ragazzo o ragazza potrebbe avere uno svenimento immediato perché l'ansia di avere tutte quelle righe da leggere sarebbe molto più forte oggi i libri di testo a scuola sono stati trasformati trasformati non hai più di quattro righe senza che vi sia qualcosa un link un rimando a qualcos'altro un disegno un richiamo a un film o a una serie televisiva che magari serve all'autore del manuale per spiegare che cosa sta dicendo in quelle righe oggi noi ci troviamo di fronte a questo a un cambiamento cognitivo impressionante d'altronde basti pensare a come funziona la rete e come funziona la scuola l'apprendimento la scuola ci insegna o dovrebbe insegnare che se io voglio apprendere un testo scritto lo devo devo attuare almeno tre caratteristiche devo intanto leggere lentamente perché se io non leggo lentamente non apprendo nulla di quello che leggo più vado veloce e meno mi rimane in testa ci deve essere una selezione del sapere in genere svolta da figure professionali che sono gli insegnanti un insegnante di filosofia quando va a scuola non pretende di insegnare ai ragazzi tutta la storia della filosofia perché probabilmente non la conosce neanche l'insegnante sceglie un determinato tipo di pensatori che permettano a quell'insegnante di trasferire ai ragazzi cosa? una forma mentis una capacità autonoma di imparare che cos'è la filosofia nel caso dell'esempio che stiamo facendo e quindi magari quei ragazzi e quelle ragazze quando vorranno studiare da soli un filosofo che non hanno fatto con il loro professore o professoressa saranno in grado di farlo perché appunto hanno una forma mentis che gli permette che permette loro di capire bene o male che cosa stava dicendo quel filosofo che non hanno fatto insieme al loro professore o professoressa lentezza selezione del sapere profondità bisogna andare in profondità per imparare qualcosa bisogna andare in profondità qualunque cosa qualunque anche fosse uno sport anche fosse una passione una disciplina la pittura non lo so la musica noi dobbiamo dire in qualche modo ai nostri ragazzi che qualunque cosa tu vuoi fare la devi approfondire la devi studiare devi faticare ti devi sacrificare devi essere disposto a compiere quello che un grande filosofo chiamava la fatica del concetto o la fatica della conoscenza qualunque cosa tu farai non si tratta solo di imparare Platone che forse è una delle cose più inutili al mondo ma anche per imparare altre cose che fanno parte della vita quotidiana queste tre caratteristiche velocità profondità selezione del sapere e vai a vedere la rete è tutto il contrario in rete deve essere tutto veloce la velocità è uno dei mantra di internet tutto veloce tutto quanto più i contenuti vengono veicolati velocemente tanto più sono soddisfatti sia coloro che li veicolano sia coloro che ne usufruiscono la superficialità io faccio sempre l'esempio del mare il motoscafo e non il dirigibile il motoscafo va molto più veloce del dirigibile ma naviga in superficie rimane a uno stadio superficiale questo noi abbiamo spesso in rete abbiamo tante informazioni forniteci in maniera superficiale e veloce tant'è vero che possiamo dire che l'epoca di internet è l'epoca in cui siamo informati su tutto ma le cose che conosciamo veramente e in maniera approfondita sono molto poche questo è e poi arriviamo anche al terzo punto la scuola ci insegna che c'è una selezione del sapere operata da figure professionali di cui è certificata l'abilità a selezionare quel sapere da fornire agli studenti la rete ancora una volta non funziona così perché la rete è un mare magnum la rete fornisce come dire i tecnici la chiamano un'opulenza informativa che di fatto genera un'indigenza conoscitiva già Platone diceva e viene molto citato questo passo di Platone nei manuali di comunicazione odierno Platone diceva che la malattia degli occhi è di due tipi gli occhi non vedono l'occhio umano non vede esattamente come nel mito della caverna di cui qualcuno magari di voi avrà sentito parlare l'occhio umano non vede quando è buio ma attenzione non vede allo stesso modo anche quando c'è troppa luce quando è accecato e oggi la rete ci mette di fronte a questo oggi chiunque voglia andare a cercare un'informazione su qualcosa tanto più quella cosa è importante tante più informazioni troverà in rete e in rete troverà tutto il contrario rispetto a quella informazione che ha cercato la rete non aggiunge nulla dal punto di vista della comprensione di un evento la rete e ancora qui ritorniamo alla logica quantitativa che impera oggi la rete ti dà una quantità sterminata di informazioni e di notizie rispetto a un evento ma non ti aiuta per niente a discernere fra tutte quelle informazioni non ti dà gli strumenti per capire quali informazioni possono essere più attendibili e quali meno non ci sono le figure professionali degli insegnanti in rete per cui la persona che visita quel sito piuttosto che quell'altro sito ha la certezza che quel sito lì è condotto da persone competenti effettivamente in quella materia rispetto alla quale io ho cercato un'informazione anzi i criteri con cui i motori di ricerca mettono in evidenza certi siti e non altri è proprio a volte è un criterio tecnico io posso decidere di aprire un sito di medicina un blog di medicina se io ho la facoltà economica di pagare un bravo web designer del mio blog o del mio sito è molto facile che i motori di ricerca metteranno prima il mio sito che non un sito di un medico per un fatto tecnico per un fatto proprio di marketing comunicativo ancora una volta quindi opulenza informativa a cui corrisponde un'indigenza conoscitiva la scuola e la rete che funzionano in maniera completamente opposta io faccio sempre un esempio di quanto oggi poco viene sottolineato l'aspetto cognitivo cioè quanto è grave questa degenerazione che stiamo cognitiva che stiamo vivendo nel nostro tempo faccio un esempio molto banale quello dell'ashish o della marijuana o delle droghe leggere chiamiamole come vogliamo c'è tutto un grande dibattito se legalizzarle non legalizzarle se è giusto non è giusto io raramente molto raramente vedo che l'unica cosa che non viene detta è l'unica che da un punto di vista scientifico è certa e cioè che quelle sostanze bruciano i neuroni e che quindi provocano degli effetti negativi in chi ne fa uso a livello cognitivo ancora una volta mi fa impressione questa cosa non sto qui a schierarmi a favore o contro non mi interessa adesso il dibattito mi interessa che se c'è una certezza che la scienza ha rispetto all'uso di quelle sostanze è che quelle sostanze sostanzialmente lo dico con termini generici provocano un costante indebolimento cognitivo della persona che ne fa uso persona che tanto più ne fa uso quanto più vive quel tipo di indebolimento cognitivo questo non viene non viene segnalato eppure è importante è importante perché oggi noi dobbiamo tenere presente che coloro che si occupano di un'altra intelligenza l'intelligenza artificiale di cui si parla pochissimo ma oggi gli stati e non solo gli stati anche le imprese anche le istituzioni culturali spendono per finanziare coloro che lavorano nell'intelligenza artificiale cento volte in più in media di quanto si spende per un lavoratore che si occupa dell'intelligenza umana cioè l'insegnante la mia non è un'apologia degli insegnanti attenzione è soltanto per dire che la misura che ci viene data di quanto il nostro tipo di società in cui viviamo l'importanza che essa conferisce all'intelligenza umana e all'intelligenza artificiale è un'importanza completamente sproporzionata a favore dell'intelligenza artificiale che evidentemente costituisce anche un business perché ancora una volta e qui arriviamo all'ultima differenza tra la scuola e la rete sono gli scopi a essere diversi la scuola in teoria avrebbe come scopo quello di formare delle teste pensanti delle teste ben fatte dei cittadini che saranno buoni cittadini della democrazia in cui vivono il compito della rete non è quello il compito della rete è vendere vendere un prodotto attraverso il fatto che la maggior parte delle persone vadano a cliccare su quel sito invece che su quell'altro è questo non è altro è una logica strettamente commerciale io non ho nulla di per sé contro la logica commerciale me ne preoccupo quando quella logica commerciale si inserisce all'interno di dimensioni vedi quello dell'educazione della formazione dell'istruzione che invece dalle quali dovrebbe essere esclusa la logica commerciale c'è un altro aspetto che ci riguarda riguarda proprio noi in quanto Europa rispetto a questo discorso cognitivo da noi vengono raccontate poco queste cose perché perché l'Europa che che se ne dica è il posto più povero e più arretrato del mondo rispetto agli investimenti e alla produzione di intelligenza artificiale l'Europa non ha una sola grande impresa che lavori nel campo delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale che possa lontanamente competere con le imprese che abbiamo in estremo oriente o che abbiamo negli Stati Uniti non ce n'è neanche una pensate in Cina c'è un giovanissimo ragazzo che si chiama Zhao Bowen spero che la pronuncia sia questa 22 anni è stato dominato direttore del dipartimento di neurobiologia dell'università di Pechino questo ragazzo di 22 anni dispone di un budget annuale di 500 milioni di dollari per poter curare ovviamente seguito da tutto un team di persone che collaborano con lui per poter curare le ricerche sull'intelligenza artificiale per poter curare tutti quegli aspetti diciamo così che riguardano appunto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e un'altra cosa che non ci dicono a proposito dell'intelligenza artificiale a proposito del fatto che mentre noi stiamo assistendo a una drammatica a un drammatico crollo dell'intelligenza umana gli studi più recenti ci hanno detto ci dicono che il 35% degli studenti di scuole superiori e dell'università sono degli analfabeti funzionali cioè che leggono ma non capiscono quello che leggono la percentuale più o meno è identica di ragazzi e ragazze evidentemente che non leggono più un libro che non sanno più esprimere un'opinione personale che probabilmente non si pongono neanche il problema di esprimere un'opinione personale perché se la logica diventa quella e questo ve lo posso assicurare che tutti coloro che vengono a chiedermi la tesi di laurea noi oggi ormai abbiamo un programma con cui andiamo a vedere la tesi di laurea che ci presentano quanto di quella tesi di laurea è stato preso da internet vi posso assicurare che in media tra il 70 e l'80% di quella tesi di laurea è stata presa con un lavoro di collage da internet un lavoro di copia in colla per dirlo in termini più semplici più banali ho fatto l'esempio della tesi perché la tesi di laurea anche se ormai ce lo siamo quasi tutti dimenticati si chiama tesi perché lo studente o la studentessa arrivato alla fine del percorso di studi che ha svolto per 4-5 anni dovrebbe essere in grado di elaborare una propria tesi una propria proposta rispetto alla disciplina in cui si è laureata e di cui sta discutendo la sua tesi appunto ma la difficoltà è proprio quella è proprio quella non essere in grado di riuscire a elaborare un pensiero critico autonomo e critico e oggi si gioca tutta lì la differenza perché oggi queste nuove tecnologie ormai lo sappiamo leggono più velocemente di noi elaborano quello che leggono più velocemente di noi conoscono molto più di quello che conosciamo noi oggi i computer negli Stati Uniti ma anche in Giappone un computer è in grado di fare un esame oncologico di una tale complessità che per un medico umano occorrerebbero una decina d'anni il computer lo fa in un giorno con questo noi abbiamo a che fare questa oggi è la realtà e il fatto che non ci venga detto che c'è una realtà una intelligenza umana e biologica che sta vivendo un forte processo di regressione a fronte invece di un'intelligenza artificiale che sta vivendo un processo straordinario di sviluppo di potenziamento nel 1965 quando nacque uno dei primi computer simili a come lo abbiamo oggi quel computer era in grado di operare un milione di operazioni al secondo oggi un computer è in grado di operare 10 miliardi di milioni di operazioni in un minuto questo è il punto e guardate che non è vero quello che dicono del tipo l'intelligenza artificiale non sarà mai paragonabile all'intelligenza umana l'intelligenza artificiale non ha certe cose che invece ha l'intelligenza umana per esempio la creatività l'autonomia non è vero assolutamente oggi ci sono computer per esempio c'è un gioco che si chiama alfa go non so chi di voi lo ha imparato è un gioco paragonabile a quello degli scacchi negli scacchi fece scalpore un po' di tempo fa il primo computer che sconfisse il campione del mondo di scacchi Kasparov lo sconfisse facilmente quest'altro gioco che si chiama alfa go a differenza degli scacchi gli scacchi seguono una logica matematica quindi si può pensare che sia facile che un elaborateur come lo chiamano i francesi riesca più facilmente a prevedere tutte le mosse a capire come fare per sconfiggere l'avversario quest'altro gioco alfa go non si basa sulla logica matematica si basa sulla logica intuitiva eppure quella macchina ha sconfitto il campione mondiale di alfa go che era un cinese è un cinese di fatto è rimasto il campione del mondo lo ha sconfitto facilmente con un gioco fatto di intuizione e guardate a differenza di quello che ci dicono quella macchina che ha sconfitto il campione del mondo cinese di alfa go non l'ha sconfitto analizzando tutte le partite come si faceva col vecchio computer che aveva sconfitto Kasparov al computer che ha sconfitto il campione cinese di alfa go non gli sono state fatte vedere tutte le partite lui le ha memorizzate ha elaborato le mosse è arrivato a capire come muoversi alla fine ha sconfitto il campione del mondo cinese no a quella macchina sono state date solo le informazioni su come funziona il gioco alfa go dopodiché lo ha elaborato per conto suo ed è arrivato ad avere una capacità intuitiva maggiore rispetto all'essere umano oggi le macchine leggono meglio di noi imparano meglio di noi elaborano meglio di noi hanno una quantità maggiore di memoria rispetto a noi oggi la differenza che noi possiamo fare è una differenza di pensiero critico e autonomo che è esattamente quello che la scuola non riesce più a insegnare ed è quello che l'intelligenza umana e biologica non riesce più a avere un pensiero critico e autonomo le connessioni mentali quella è la nostra forza riuscire a cogliere in essi di causa ed effetto sapete come si chiamano le connessioni mentali in inglese link ma i link sono esattamente quelli che ci danno i computer sono quelli che le nuove generazioni trovano navigando in rete ce li hanno già pronti i link hanno già pronti quando stanno visitando un sito qual è il link connesso di un altro sito da andare a vedere subito dopo quello o qual è il percorso di navigazione mentale e cognitiva dell'utente di internet è già preprogrammato e a questo stanno abituando l'intelligenza umana intelligenza umana che è destinata a diventare ormai una come dire un'ancella dell'intelligenza artificiale un'infermiera un non lo so mettete come voi un domestico o domestica dell'intelligenza artificiale questo è il futuro verso cui stiamo andando se non reagiamo a questa cosa altra grande caratteristica che ci dice ci dicono gli studi che l'uomo può avere le macchine no l'empatia voi credo ci siano molti psicologi qui immagino molti psichiatri sapete neuroni specchio sapete l'empatia è una delle caratteristiche che connotano l'essere umano rispetto alla macchina eppure sempre gli studi ci dicono che non c'è solo un muro dal punto di vista dell'identità come abbiamo visto all'inizio non c'è un muro solo dal punto di vista della capacità cognitiva c'è anche un muro dal punto di vista affettivo e relazionale oggi gli studi ci dicono che le nuove sta sparendo sta sparendo l'empatia la capacità di immedesimarsi nell'altro la capacità di allacciare delle relazioni profonde con gli altri ma perché è ovvio perché perché ragazzi e ragazze sono sempre più abituati a interagire con gli altri attraverso l'intermediazione di una macchina ma la macchina come ci aveva insegnato McLuhan con l'esempio del martello provoca dei feedback provoca degli effetti di ritorno se io mi abituo a conoscere una ragazza che magari mi piace e a corteggiarla o a tentare di corteggiarla attraverso lo schermo attraverso la tastiera ma soprattutto dietro all'ambiente protetto della mia tastiera e del mio e del mio schermo io mi abituerò a quello a me sempre quei ragazzi in cui vado nelle scuole ma sapete quanti mi dicono soprattutto i maschi però insomma mi dicono ah ma noi sabato pomeriggio io mando dieci messaggi lo stesso messaggio a dieci contatti del mio social network donne ragazze che mi piacciono qualcuna mi risponde ed effettivamente sì qualcuna gli risponde probabilmente però qual è il punto che poi quando quel ragazzo o anche quella ragazza evidentemente la persona se la trova vis-à-vis davanti agli occhi subentra la crisi ci sono studi che io documento nel mio ultimo libro che ci dicono chiaramente che è in fortissimo momento la timidezza patologica cioè l'incapacità assoluta della persona di sostenere anche soltanto lo sguardo di un'altra persona davanti a sé perché del resto la comunicazione umana lo sappiamo è diversa da quella delle macchine è fatta di appunto di sostenere lo sguardo altrui è fatta di un sesto senso è fatto di chimica di odori di gesti di gestualità di modo di parlare di modo di esprimersi del tono del timbro della voce ma tutto questo si sta perdendo tutto questo viene messo da parte dalla modalità con cui le persone oggi spesso si conoscono attraverso l'intermediazione di una macchina solo che poi quando si va nella vita reale cervello plastico ma non elastico quelle capacità difficilmente vengono riacquisite e quindi difficilmente la persona è in grado di metterle in pratica io vi faccio un esempio molto banale io quando faccio lezioni all'università come credo molti miei colleghi lascio l'ultimo quarto d'ora 20 minuti agli studenti per delle eventuali domande non mi fa le domande nessuno cosa che vi assicuro voi lo sapete meglio di me per un narcisista è un problema serio è una sofferenza una ferita però che succede che poi quando allora dico vabbè allora ragazzi non ci sono domande ce ne andiamo mi alzo e mi ritrovo una fila di 20 persone lì pronte a farmi la domanda e puntualmente chiedo a tutti ma scusate perché non avete fatto la domanda quando magari poi lo sappiamo come funziona la domanda di uno può essere utile anche a tutti gli altri non hanno il coraggio ah no ma io devo prendere il microfono devo parlare davanti agli altri poi mi vedono poi magari mi impappino poi magari sbaglio un congiuntivo poi magari dico qualcosa che è una stupidaggine no no meglio prendere lei da parte e farle la domanda in forma riservata qui è ovvio essere in connessione con un profilo non è la stessa cosa che essere in relazione con una persona in carne e ossa sono due modalità completamente diverse ma se noi abbiamo educato un'intera generazione a quella modalità di conoscere gli altri di entrare in comunicazione con gli altri cioè quella di essere in connessione con un profilo e non in relazione con un essere umano è evidente che poi quei limiti verranno fuori e allora c'è un muro un muro anche anche emotivo anche sentimentale non soltanto un muro interno a me stesso fra me e la mia identità profonda c'è un muro cognitivo c'è un muro relazionale sentimentale non c'è solo l'analfabetismo funzionale c'è anche un analfabetismo emotivo c'è anche un analfabetismo relazionale che stanno emergendo in maniera forte la specificità umana si sta perdendo Leonardo da Vinci poi ripreso da un grande filosofo del novecento Jean Paul Sartre ci aveva raccontato che i muscoli che noi usiamo per ridere e per piangere sono esattamente gli stessi esattamente gli stessi e allora forse ci sarà una specificità umana che sta più in profondità e che fa sì che io riesca a capire se quell'essere umano sta ridendo o sta piangendo e perché lo sta facendo questo è uno dei piccoli e pochi esempi che ci restituiscono la ricchezza dell'umano che invece stiamo perdendo da tanti altri da tanti altri punti di vista oggi e qui mi avvio a concludere sta emergendo una nuova filosofia che peraltro ha conquistato tutto il mondo delle nuove tecnologie si chiama transumanesimo non so quanti di voi ne hanno sentito parlare sta prendendo piede sta diventando la filosofia dominante o se preferite l'ideologia dominante di coloro che si occupano delle nuove tecnologie cosa dice sostanzialmente il transumanesimo il transumanesimo dice che l'essere umano il genere umano come noi lo abbiamo conosciuto fino ad oggi è arrivato alla fine non è più adeguato per il mondo verso cui stiamo andando l'umano riuscirà a sopravvivere soltanto nella misura in cui sarà in grado di fondersi con le nuove tecnologie possibilmente diventando una particella di quelle nuove tecnologie diventando una piccola parte di quelle nuove tecnologie l'intelligenza umana dovrà lasciare il passo all'intelligenza artificiale facebook il 20 settembre del 2019 ha lanciato quindi zuckerberg ha lanciato ufficialmente ha dichiarato ufficialmente in una conferenza stampa che lui aveva investito i primi 20 miliardi di dollari per combattere l'immortalità per combattere la mortalità scusate e non lo fa solo zuckerberg lo stanno facendo tutti i principali direttori di queste multinazionali e proprietari convinti forse hanno ragione non lo so convinti che l'ibridazione fra l'essere umano e la macchina non solo è il futuro verso cui stiamo andando ma evidentemente i dati ci dicono che quell'ibridazione dovrà inevitabilmente vedere l'essere umano così come noi lo conosciamo oggi ridursi al servizio della macchina perché nel momento in cui si ibrideranno queste due realtà emergerà chiaramente che la macchina è superiore all'essere umano e noi riusciremo a sopravvivere grazie alle macchine qualcuno di voi ha visto il famoso video di Bill Gates a proposito del virus quando lui prevedeva che sarebbe arrivato un grosso virus beh ma pochi ci dicono che in quel video Bill Gates stava dicendo che i virus noi li sconfiggeremo soltanto grazie all'intelligenza artificiale perché sarà l'intelligenza artificiale che avrà la capacità di studiare e di elaborare dei fenomeni così complessi e così inaffrontabili dall'essere umano dalla ragione umana lo vediamo lo vediamo che abbiamo dei limiti evidenti cerchiamo di usare tutte le accortezze del caso mascherine lavare le mani tutto quanto ma è evidente la nostra debolezza è evidente che il virus è un qualcosa che se per ragioni che a noi sfuggono dovesse evolversi in un certo modo noi ne verremmo distrutti la spagnola nel 1918 pochi se la ricordano perché era appena finita la seconda guerra mondiale ebbe due ondate nella prima ondata fece 13 milioni di morti nella seconda ondata 50 milioni di morti semplicemente perché si era mutato il virus entrando in contatto con il corpo umano credo che il mio tempo sia finito allora arrivo veramente alla conclusione Freud ci insegnava un autore che credo la maggior parte di voi insomma conosca bene Freud ci insegnava che l'uomo aveva subito nella storia tutta una serie di ferite narcisistiche la prima era stata quella di Copernico che ci aveva detto che la Terra non è il centro del mondo ma anzi è uno dei tanti pianeti che girano intorno al Sole e per giunta non è nemmeno l'unica galassia la nostra ma ci saranno ci sono galassie probabilmente infinite per quello che ci risulta poi venne Darwin a raccontarci che non siamo neanche il centro della creazione perché in realtà siamo l'evoluzione di tutta una serie di prima di essere uomini eravamo delle cellule mononucleari che stavano nell'acqua non bastò neanche questo ci si aggiunse un'ulteriore ferita narcisistica operata da Marx che ci disse che persino i prodotti che noi lavoriamo sono in grado di diventare più forti di noi tant'è vero che poi l'uomo da un certo punto in poi ha cominciato a vivere per gli oggetti che desiderava di comprare lui stesso li produceva però il feticismo delle merci come lo chiamava Marx con un linguaggio abbastanza filosofico poi come se non bastasse è arrivato anche Freud che ci ha detto che neppure l'io non è padrone nella casa di psiche non solo siamo rimasti delusi dal punto di vista cosmologico non siamo rimasti delusi come specie non solo siamo rimasti delusi come esseri produttivi siamo rimasti delusi anche nel rapporto del nostro io con la propria interiorità perché Freud ci è venuto a dire che in realtà c'è tutto un territorio misterioso e oscuro chiamato inconscio che in realtà regola in vari modi i nostri comportamenti in maniera tale per cui noi crediamo di essere coscienti e consapevoli nel prendere certe decisioni ma la maggior parte delle decisioni che prendiamo le prendiamo in virtù di stimoli e di input che provengono da un regno misterioso oggi noi ci troviamo di fronte all'ennesima ferita narcisistica non siamo neanche gli unici depositari dell'intelligenza quella era l'unica cosa che avevamo Platone diceva che l'uomo è l'essere mediano fra gli animali e gli dèi gli animali hanno l'istinto assoluto gli dèi hanno la conoscenza assoluta noi poveri di istinto e privi della conoscenza assoluta almeno abbiamo l'intelligenza oggi non abbiamo più neanche quella perché l'intelligenza umana sta crollando e i dati ce lo dicono chiaramente e sta emergendo una nuova forma di intelligenza che è quella artificiale che invece sta prendendo possesso della realtà umana e noi ci comportiamo tutti come come dei robot come quel bambino come quel ragazzo a scuola a cui gli ho chiesto ma perché lo fai ma perché quando stai prendendo il tè con la tua amica poggi la tazza del tè sulla tavola la fotografi e senti il bisogno di comunicare al mondo o alla rete o a tutti i tuoi contatti che stai prendendo un banale tè non lo so perché lo faccio ma se non l'ho fatto la sera mi sembra di non essere esistito e allora concludo veramente 2011 New York Times non è l'unico articolo è citato nel mio libro lì troverete tutti i dati più specifici ma non è ripeto l'unico articolo ce lo dicono anche articoli di oggi nella Silicon Valley California il pezzo di terra dove hanno sede tutte le più grandi multinazionali delle nuove tecnologie Amazon YouTube Microsoft Apple eccetera hanno tutte sede lì beh lì ci dice il New York Times ci diceva un articolo del 2011 che i proprietari di queste multinazionali hanno fatto una colletta vi potete immaginare non è una colletta come potremmo fare noi 5 euro 10 euro hanno fatto una colletta abbondante per costituire un intero polo scolastico lì dove hanno sede quelle multinazionali in questo polo scolastico possono andarci evidentemente chi? i figli dei dipendenti delle multinazionali dei funzionari dei dirigenti dei proprietari c'è una una sola regola che vale per tutti e rispetto alla quale non sono ammesse deroghe in quella scuola è vietato l'utilizzo di qualsiasi tecnologia digitale ora se i maggiori personaggi che traggono profitto legittimamente da questa straordinaria invenzione da tutto quello che vi gira intorno si preoccupano e i loro figli a scuola apprendano imparino tutto quello che ti può insegnare una scuola escludendo proprio quelle tecnologie con cui loro si stanno ripeto legittimamente arricchendo io un pensiero me lo farei il problema è siamo ancora in grado di farlo quel pensiero grazie grazie per la brillante e interessante relazione che sicuramente ha suscitato in noi un sacco di osservazione una precisazione la sindrome da assunzione di cannabis marioana si chiama sindrome amotivazionale cioè comporta il nostro problema che questi ragazzi poi non hanno voglia per nulla ecco questa è la precisazione e che il caffè è una droga anche quella e che quindi anche quella dà sintomi anche la vita è una malattia che si trasferisce per via sessuale peraltro sì 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 ok quindi questa è la precisazione non so penso che le domande le facciamo subito ok prego allora primo prego hai alzato la mano per primo mi sembra grazie per l'intervento condivido in buona parte l'analisi che è stata fatta anche perché come dire noi vediamo nel fenomeno del ritiro sociale del mondo dell'ikikomori esattamente tutti quei sintomi di cui lei ha parlato cioè nel senso inserirsi in una bolla di tutto uguale la ripetizione la come dire l'annullamento del pensiero critico eccetera eccetera ora però io ho l'impressione che ormai del mondo tecnologico e virtuale non ci possiamo liberare via io dubito che riusciamo a tornare indietro allora mi è venuto in mente un grande filosofo secondo me un grande filosofo scomparso recentemente che è Bernard Stigler che parla appunto dei dispositivi tecnologici in una prospettiva farmacologica cioè riprendendo il concetto di farmacon di Platone vedendo come ci può essere da una parte la dimensione della cura e la dimensione del veleno questa ambiguità strutturale e come dire con cui oggi noi non sappiamo ancora avere a che fare noi non sappiamo avere a che fare con questa ambiguità strutturale allora a me viene da pormi questa domanda un po' alla fine questa è la mia domanda cioè un po' di Leniniana memoria cioè che fare ah è questa la domanda che fare sì ok la vera domanda sì sì no le cose devo fare rispondo a una per volta no no intendo dire rispondo a una per volta o a tutte insieme a tutte insieme quindi me le scrivo perché avendo un'intelligenza umana poi non mi ricordo quello che mi hanno chiesto io poco no aspetta aspetta io non sento nulla ma non so se perché sto diventando sordo proviamoci lo stesso ma non so se Grazie. Altre domande? Avrei preferito che fosse sbagliata in qualcosa la nuova. Un po' più alto perché... Un po' più alto perché... Un po' più alto perché... Se non siamo già... Transumano. Se siamo già dentro al transumano. Vedendo alcuni soggetti in televisione il dubbio ce l'ho. Però... To' più alto perché... Un po' più alto perché... Iniziamo un po' più alto... Iniziamo un po' più alto. Non è così... Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.